Il mondo della nautica in Sardegna è una realtà vivace, fatta di imprese che costruiscono imbarcazioni, le riparano, le custodiscono, le offrono a noleggio con migliaia di professionisti. Nel complesso il peso dell'artigianato del settore rilevato per l'isola è più elevato rispetto a quello medio nazionale, 36,6% rispetto al 34,7%, la cui incidenza sul totale dell'economia regionale influisce per lo 0,72%. Lo rivela un'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su dati Union Camere. La storia della nautica in Sardegna è una storia di passione, di competenza, di ricerca, tecnologia, i segreti di un settore in cui la storia e la tradizione si uniscono sia alla modernità che all'innovazione tecnologica. Secondo il dossier dell'Associazione Artigiana, nel panorama nazionale la Sardegna si piazza il quinto posto nella filiera Produzione più Servizi, con la Toscana prima e la Valle d'Aossa ultima. Nello specifico la nautica isolana è rappresentata da 918 realtà, di cui 129 imprese si occupano di cantieristica, mentre 789 si occupano di servizi. In particolare sono artigiane circa 3 su 4 aziende. La maggior parte si trovano tra Sassari e la Gallura, 608, e poi a Cagliari dove le imprese sono 193, Nuoro e Ogliastra, 98 e Oristano, 19. È un settore che senza ombra di dubbio ha ripreso nell'ultimo periodo uno spazio veramente importante, ma purtroppo si ritrova a fare i conti con la scarsità di addetti qualificati, mentre cresce sempre di più la richiesta. Si possono stimare inoltre altre 600 imprese legate alla filiera e che forniscono prodotti e servizi pur operando in altri settori. E' il caso per esempio dei tapezzieri, falegnami, meccanici, impiantisti, autisti, imprese di pulizia, di ristorazione e realtà che offrono beni ai servizi di lusso. Tutto ciò porta a stimare, dice Confartigianato, complessivamente 1518 realtà e 15.000 addetti tra diretti e indiretti, saltuari e fissi.